Tu sei un tirchio, questo qua, tirchio e porco, cioè tu dentro al cuore, in fondo, anzi guarda, non ce l'hai un cuore, sei un affettivo. Certo, sono un banco, ma tu avresti un banco, ma che sei buon zio. Mannaggia te, papà, quella volta soltanto facciamo quello che ci piace fare, tanto lo so che lo vuoi anche tu. No. E nessuno? No! Comunque non ho visto niente. Questo vestito è bello, bello, però devi mettere una taglia in meno, più fasciante. Spartito, eh? Peluche. Rispondi al cellulare, Nance, che ti vibra. Pronto, Toni? Non si sente bene? Marika, io ti sento benissimo. Non capisco. Non ci vedo, non ti viene di far pisse a me. Se ci sentiamo una... Ma me... Non ci sentiamo... Marika! Ma tu lo sai che cosa significa vivere con un uomo che si sveglia tutte le mattine alle 5.30? Torna a casa alle 20, sfinito, si butta sul divano e appena lo tocca... Poo! Se non era per me tu stiva ancora a fuoco agli uncilla a presto a gira. I t'aggi mannate là perché dovevi trattare e t'avi vamparà. E mi pare che a qualcosa sia servuto o no? O mi sbaglio? Voi dividete il mondo in quelli che non uccidono e in quelli che uccidono. E vi pensate che siccome io sono una femmina appartengo alla prima categoria? Lo sbagliato. Ma mio marito comanda. E se mio marito dice che si deve fare così... Così si fa. Me la ricordi a questa collana? Anch'io me la ricordo.